Salve a tutti, sono Francesco Filippi, regista di Mani Rosse. Oggi è il 19 dicembre 2017 e la campagna crowdfunding si è ufficialmente conclusa con un grande successo perché abbiamo raggiunto addirittura più di 16.000 euro, risultato assolutamente non scontato e insperato per cui noi vi siamo assolutamente infinitamente grati. È una sfida vinta che è stata costituita da due mesi estenuanti ma molto belli, abbiamo fatto degli incontri stupendi con tante persone, prima a Bologna, poi a Torino, a Lucca, a Bellinzona, a Castel Bolognese, insomma siamo andati in giro anche nelle aule universitarie, insomma tante persone che di persona hanno manifestato il loro entusiasmo e poi ovviamente tutti gli incontri virtuali. Quindi, intanzitutto, grazie per la vostra generosità, è veramente stata incredibile. Grazie anche per la fiducia perché, insomma, molti di voi hanno conosciuto questo film per la prima volta e non era così scontato supportarlo. E grazie anche per i bellissimi messaggi che sono arrivati, molto incoraggianti e non di solo il denaro, no? Si fanno i film, ci nutriamo anche di incoraggiamento e ce n'è bisogno. Poi, grazie anche alla squadra di lavoro che ha realizzato questa campagna e quindi Michele, Michela, Giusi, Martina, insomma tutte queste persone meravigliose mi hanno dato una mano con grande professionalità e puntualità. Poi, vorrei ringraziare anche le persone che ci hanno aiutato volontariamente, anche sia di persona, sia nella diffusione, nella promozione della campagna. Un grazie calorosissimo anche ai 18 meravigliosi disegnatori che hanno donato le loro opere digitali, rosse, tra le ricompense. Grazie anche ai festival che hanno aiutato, ma i rosse, ad avere visibilità. E poi un grazie personale a mia moglie Lucia che in tutti questi due mesi abbondanti di delirio ha avuto una pazienza, insomma, veramente da santa. Ecco, quindi, insomma, grazie Lucia. A questo punto, che dire? Beh, insomma, intanto questa campagna la dedico a voi, è vostra, siete voi che avete fatto tutto. Ecco, e quello che è successo, personalmente, magari aumenti la fiducia nel genere umano, perché ci comportassimo sempre tutti così, insomma, probabilmente il mondo sarebbe ancora più bello. In più, devo dire che io mi sento personalmente investito di una maggiore responsabilità da parte di ciascuno di voi, con un nome, cognome, un volto. E questa è una responsabilità nei confronti del pubblico, idealmente, quindi, i ragazzi a cui questo film si rivolge e quindi mi spinge a consegnare loro una qualità ancora più alta. Quindi, io ovviamente, insomma, spero proprio, insomma, farò di tutto perché ciascuno di voi, ecco, rimanga soddisfatto, ecco, di questo film. Un film che, come sapete, a questo punto uscirà in primavera, ci mancano ancora tre mesi abbondanti di lavoro intenso. La prima sarà al Future Film Festival a Bologna, a maggio. Appena il film sarà finito, ci dedicheremo alle vostre ricompense e nel frattempo restiamo in contatto tramite la piattaforma Ulule e tramite la nostra pagina Facebook, che, insomma, manteremo aggiornata. E comunque, insomma, via mail, ecco. Quindi, ancora un grazie infinito, insomma, da parte di tutti noi e un augurio di Buon Natale e un anno nuovo pieno di soddisfazioni e magari proprio da questo film che, insomma, che ormai è nostro, no? Perché è veramente un film nato dall'energia e dall'aiuto di tutti. Quindi, grazie ancora e a presto. Ciao! Grazie a tutti!